Il palincesto delle live non è stato aggiornato bestiace quindi se facete il comando trattino esclamativo live vedrete i vecchi orari non abbiate paura non abbiate timore questa settimana è tutto diverso altrimenti sembra che viviamo sempre lo stesso giorno c'era un film che non mi ricordo come si chiamava che aveva questo come diciamo core principale di trama ed era una figata triste ma figo tragicomico direi come la vita giustamente è chi le è sam star grazie mille bestiace allora oggi bestiace si ritorna con la seconda puntata dedicata a questa meraviglia che è lost in vivo grazie al cielo che ho sempre i titoli sott'occhio altrimenti non mi ricorderei neanche uno dei nomi dei titoli dei giochi che portiamo lost in vivo dobbiamo ricercare di ritrovare il nostro cane sperduto qualcuno ce l'ha portato via nelle fogne attenzione nelle fogne ma nelle fogne tra l'oscurità si cela qualcos'altro incredibile incredibile questi cani arancioni si mettono sempre nei guai penso che i cani migliori siano i cani viola così insegna perlomeno leone il cane fifone cani fedeli piccoli inutili ma fedeli e paurosi incredibile incredibile quante quante si un cane arancione ragazzi un cane arancione uno di quelli che piace come si chiama ai giapponesi cos'è già una reaction attenzione generation zero gioco in coop grazie mille anto col guanto dopo lo facciamo dopo facciamo la reaction perché effettivamente quel giochino lì ci interessa e stiamo cercando un gioco cooperativo e so che generation zero si è evoluto col tempo quindi figo dopo lo guardiamo più che volentieri grazie mille per aver sollecitato la mia attenzione la mia curiosità è allora però prima di partire a manetta a bombazza come diceva cesare l'antico io direi di guardare perché coop tv non è solo minchiate ma è anche informazione non è solo intrattenimento ma è anche scienza è anche curiosità direi di guardare le news della settimana ormai ho deciso di far sta stronzata cinque minuti prima di giocare ragazzi così anche per rompere il ghiaccio non si sa mai perché ci sono cose incredibili che stanno affiorando nel mondo dei videogiochi chi l'è chi l'è il gabibbo ce l'ha duro illucinante grazie mille bestiasse lotto valhalla grazie mille benvenuto gabibbo arvom grazie nemesis luke becky ioles chi altro alla kazam di 33 mesi l'ha all'ultima che ma che è un bimbo deforme sta per nascere grazie mille la kazam lotto valhalla luna zat iruga e chi altro deniel 97 grazie 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 a tutti quanti voi vi ricordo che il 12 giugno arriva la switch mi arriva in faccia sui denti incisivi ovviamente magari mettetevi un paradenti che non si sa mai magari potrebbe magari mentiamo ve lo lanciamo sul sul tube non lo so devo vedere comunque vi arriverà questa switch addosso in un punto specifico del corpo devo ancora capire quale al vincitore ovviamente del contest non vedo l'ora ottimo mi fa piacere grazie anche di essi luca grazie bestiasse che sappiamo tutti che sappiamo tutti chi è chi l'è onega ivan hog io direi sulla tempia a sorpresa sulla nuca nell'occhio una switch nell'occhio così sicuramente ti rimane impresso il logo nintendo buonasera bentornati che piacere che bello siete siete pronti siete carichi io no non lo so ragazzi no io non sono carico per niente questi tre giorni mi sono serviti effettivamente mi sono riposato spero vi siate riposati anche voi ma ho bisogno di più riposo evidentemente perché ho dormito tipo 33 ore stanotte ringrazio veramente i cani per aver culato il mio sonno con le urla tra l'altro adesso ci sono messi pure i gatti i gatti i gatti che verso le 34 di notte decidono di accoppiarsi sotto l'albero di casa mia non è che io non è che io vivo sopra un albero sarebbe una figata purtroppo non è così però ci sono scogliato li e gatti e adesso c'è un gatto ci sono due gatti che iniziano sotto alle 4 di notte ovviamente considerando che ci sono pure i cani immaginate lo zoo che è casa mia ho sei gatti io dino beh togline qualcuno direi che sono 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 sei di troppo allora poi chi altro ha jacocas ciao bestiasce nervoso no ma per carità ma per carità allora vi saluto vi saluto attenzione devil poi chi altro simone eccolo lì roto valhalla grazie mille poi chi c'è chi c'è ambretta la ragazza arciere leila sera minchia non vedo un cazzo scusatemi sera balala filo helsinelle yale sun poi chi altro mi chiama micap eccolo helsinelle onega sailesia lord akami den che c'ha un esame il 12 proprio il 12 vergognati max goleador pericolo 89 di nome di fatto perché è un pericoloso uomo di 89 centimetri mary 22 isabello battered cookie smeriglio donte cipollina naua imperius eccolo lì greenwich popollo cane volante wolf girl horizon cane don tuorlo bellissimo mi ricordo don culo che spadroneggiava per le vie di milano tempo fa e lo so ragazzi lo so son elfo marcocchio è tutta una mafia è tutta una mafia fede gent ops fabbrica toast croccante e ultimo ma non ultimo ma forse meno importante devo star notire andrea cop tv benvenuto no no allora chi chi dai qualcuno di qualcuno qualcuno di nuovo figa dai dai nuovi scrivete in chat chi non ha scritto per la prima volta scriva adesso perché lo sappiamo lo vediamo svio si ho vlad si ho non ce la faccio non sei nuovo ma non importa qualcuno di nuovo non c'è eccolo fermi ferrer 0 6 ciao bestiascia un piacere un onore allora andiamo a vedere il news della settimana ci state allora lo sapete come funziona ormai il mondo dell'intrattenimento legato ai videogiochi ma in generale anche film serie tv cinema e teatro la realtà virtuale la realtà virtuale ormai è entrata nelle nostre case e sta rompendo i coglioni in quanto costa troppo e nessuno in realtà gli frega un cazzo di averla eccola qui anche apple ci si mette con questa maschera da sub guardate che meraviglia in grado di farvi esplorare tutti quante le sette leghe le 7.000 leghe guardate che meraviglia ma anche il boccaglio e siamo pronti per l'esplorazione e questo sarebbe il visore che ufficialmente apple ha appena insomma ecco pubblicato quale orrore grazie manca nemo e la sua lancia dei mari e ci siamo manca veramente questo tra l'altro non so perché mi viene in mente un ananas guardando tutto questo non so per quale motivo comunque questo qua sarebbe il visore pro vision pro its new mixed reality the hair set vuol dire che ti fa sentire ti fa vedere ma non ti fa toccare brutti porcelli per quello ci vorrà ancora un po di tempo ma non è finita qui quale sono le altre news che ign america ci porta vai alla ricerca di nemo si va alla ricerca di ma può anche starsene per i cazzi soi quel quel deforme pesciolino across the spider verse avrà un gameplay di spider man 2 al suo interno perché features new gameplay from spider man 2 questa è la mia pronuncia ovviamente perfetta eccels della della lingua madre il russo across the spider verse features new gameplay from spider man 2 sti cazzi microsoft ha promesso che non ci saranno gameplay nella sua totalità in cgi durante l'xbox showcase for party che non so neanche quando cazzo sarà però ha promesso ha detto no vi promettiamo che tutti i trailer che vedrete saranno gameplay immagino che dei giochi che i giochi che mostreranno saranno ci sarà sicuramente starfield spero e quindi non ci saranno delle delle cinematic ma ci sarà soltanto un trailer c'è un trailer di un video gameplay figo buono ottimo ottimo immagino che dei cinque giochi che che ci faranno vedere che usciranno tra 50 anni sarà sarà per noi piacevole sapere che sono in computer grafiche che usciranno non per questi box ma per la prossima che sarà l'xbox y ottimo mi fa molto piacere attenzione street fighter ha raggiunto un milione di giocatori chi se ne frega penso che il motivo siano i culi dei personaggi femminili poi non ci fotto un cazzo della dc non ci fotto un cazzo della dc un pazzo psicotico non so cosa ha avuto probabilmente aveva la scabbia ha deciso di finire che che tirs of the kingdom senza il paracadute ma per quale cazzo di motivi c'è è come dire tesoro vado a fare la spesa in macchina ma to tienimi il volante ma per quale cazzo di motivi c'è ma quali qual è il se io ve l'ho detto che si sta complicando la vita per giocare sto gioco io l'ho detto ma cosa serve ma cosa serve ma perché non lo so vabbè diablo 4 i giocatori sono già arrivati a livello 100 e dunque quindi lo status quo del videogiocatore colui che non ha un cazzo da fare ecco che si ripresenta come il giocatore che è riuscito ad arrivare a livello 100 in un giorno dall'uscita cioè è uscito è uscito diablo che non è neanche uscito perché esce domani domani lo portiamo tra le altre cose no domani sì domani lo portiamo non mi ricordo quando cazzo è e questi sono già arrivati a livello 100 nella nell'alpha nella beta quel cazzo che nella deluxe che hanno dove dove te lo danno prima il gioco c'è incredibile 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 vabbè ragazzuoli queste sono le news poi magari dopo ne parliamo dopo guardiamo ci guardiamo anche i trailer che volete insomma reactiamo a destra e a sinistra ci vediamo domani alle 21 30 è stato un piacere buonanotte no sto scherzando no assolutamente no si va nella foglia sì sì sto facendo partire il gioco si rovinano i giochi così facendo sì 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 si rovinano si perdono la 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 è è è fatto con unity sto gioco non mi piace più che era che schifo tirato su cosa mentre bevevo mi ho respirato dell'acqua un pesce tu che pesce 6 e perché la soglia ed od il pesce palla warning questo gioco contiene violenza allora lei continuo e via datemi poi un feedback aptico dell'audio ditemi com'è direi che partiamo alla grande abbiamo abbiamo la mappa no non abbiamo la mappa di quest'area però io non mi ricordo che cazzo dovevamo fare chiamiamo il cagnorino intanto è più un pappagallo più con cane siamo qua oddio li avevamo attivati i terminali o no non mi ricordo ragazzi per me x io il cane ancora vivo ma sai che credo che a questo punto non ce ne freghi più un cazzo del cane il nostro obiettivo è quello di andarcene via da qui ma sì qui c'era questo gioco chiamato midnight che probabilmente è sempre stato sviluppato da loro magari è un altro giochino interessante che sarebbe bello portare buonasera ma il scusatemi no vabbè non c'è il visto in cattivo sto già per vomitare appena giro la visuale sto male devo fare qualcosa ma ho già fatto ma allora abbiamo già fatto tutto non mi ricordo niente non mi ricordo niente con il fucile a pompa se è invincibile dovevi salire sul treno a grazie ok ai ottimo mio figlio è gabbiano è un l'utenza sana valsugana quella di cop tv ma ti chiami easy ma ti chiami costantino mi hai sgamato tenersi lontana dalla linea gialla grazie allora c'erano delle scarpe qua da qualche parte mi ricordo esatto e c'è aspetta che forse c'è qualcosa da raccogliere qua per terra no sono molto vicino al monitor e non so perché sono molto vicino al monitor e non so perché bene vado è a cazzo di porta voglio stare all'ultimo ok non so perché ma mi sento sicuro se mi metto in fondo ai vagoni non sono più in fondo ai vagoni ma per quale apri ste porte del cazzo ecco qua così ottimo 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 c'è un foglio lì da leggere ho paura che il momento in cui lo leggerò qualche mostro cercherà di assalirmi comunque la pulizia di questo posto è incredibile mancano i gitani e ci siamo it makes me feel so much better sometimes but i worry that i not good enough ma l'abbiamo geletta sta boiata non ce frega oh c'ho 20 proiettili boom baby sono pericoloso permesso ma non c'è ma c'è mancanza d'audio sento uno strano suono non mi piace vai via non mi piace lasciamo allora non disturbiamo il 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 conducente che è stato ti sparo in the fuck eh no che sembra una cannuccia una sigaretta elettronica quando fumi sta sigaretta quando si ferma sto cazzo di treno ah che è ehi no eh ho vinto no 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 che è successo sono svenuto a eeeh hello chi c'è la sera che è sto suono madonna tutto un tratto ho più paura questa musica che dovrebbe calmarmi mi sta mettendo più ansia mica lo so che mi troverò che bello ma dov'è nio e morfeus ma che bello ma che schifo le crosta i suoi muri buonasera attenzione questa è la taverna di giarriscotti grand b vabbè senti ciapo sulla siamo lì siamo lì dove è scritto s si è giunta la meccanica delle a salvataggio ottimo si è giunta la meccanica delle mappe e indovinato un po mi fa schifo non la sopporto fatemi sistemare ok avete sempre chiesto man mano col tempo il là con gli anni dino perché non giochi le horror night con la luce spenta la mia risposta è sempre la stessa fatevi cazzi i vostri questa è urina questi sono topi in full hd no no chi l'è iale grazie mille per i mille grazie bestiacce grazie grazie non credo di ma quello è un cuore ma che schifo cos'è un calcolo renale un'ugola ah è il film la casa dove cazzo siamo finiti no 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 allora ragazzi chi è curioso finisce all'inferno io non lo sono mai stato eppure ci siamo permesso minchia no tutto un po' storto ho visto qualcosa ho visto che è sta cosa pick up che cazzo è che è molla giù molla giù molla giù cos'è ah ma che è una sedia una grata e io l'ingrato come si molla giù la roba non la voglio non posso correre the door feels hot ah ma questo qua cos'è acido si acido ok devo immagino metterlo da qualche parte tipo su una serratura per aprire una porta me lo verso addosso eh lo faccio eh rovino questo adorabile che cazzo è successo faccino ah ecco vedi guarda mamma guarda come vibro respirate mi raccomando ma che bello il menù mi piace un botto ma che figo è ma fighissimo il menù ma com'è successo scusatemi che cazzo ha combinato scusa eh vabbè abbiamo una seconda chance no qualcosa ma che sta succedendo ma che è ah oh 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 aiuto che cazzo è no 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 ah 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 quello sono io ah ma che ma io ma 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 the door feels hot I feel sorry I am open ma che è questo è quando sei talmente brutto che persino il riflesso ti fa male di te stesso ovviamente sera broken ma che è il capo di heart attack ma sian cretini ok questo è broken è una sorta di credo sia una sorta di codice scusate di soppiato così la digestione quella caratteristica quanto sono messo come sono messo a vita da un 94% allora locked ok quindi ci serve una sorta di combinazione eeeh boh ma qua ho qualche indizio se ci appo su il nostro bel maglio da guerra un gazzo ma che cazzo lo baci cretino non non era mia intenzione avvicinarmi così tanto sinistra destra centro ah ottimo grazie per gli spoiler ma eeeh ho capito ma io devo capirlo devo prima arrivarci fermi allora suppongo che sti stronzi se io me la faccio ma c'è qualcosa riflesso nell'acqua ma che cazzo è ma va ok sparagli non serve ma posso romperlo giustamente vieni qua e non c'è più niente di riflesso nella nella pozza ok questo penso di essere io credo eh eeeh sono un sovrano a questo gioco il cricket da qui perché si rompe cric fa cric se lo si faceva con la testa dei propri nemici non sto scherzando andate a cercare la storia di come è nato il cricket eeeh io vado avanti di porta in porta qual è il mio problema? beh ce ne sono tanti per... messo? ti prego fa che scivoli su uno di questi gradini e addio ok abbiamo il treno chi mi garantisce che sto stronzo non parta? stavano lì eh? stavano lì eh? che c'è scritto? page one life is too... too harsh love was lost forevermore they hung from a ceiling fan starting on the floor ma che è una canzone dei paramor nooo nooo uh no credo di aver rotto il gioco lo sto rompendo ahahah 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 ok era un nemico figo ce ne sono altri? qui c'è la gratta aperta mi insinua ahahah ok sta andando alla grande vedete ho il microfono in bocca e non mi dite un cazzo ce l'ho nel naso hai cinque colpi e basta sì ma io me li faccio bastare come faccio a ricaricare il martello? un idiota lo sapete ragazzi ho sempre confidato sulle mie due qualità migliori ehm l'aerodinamicità perchè mi mancano i capelli e la bellezza con queste due cose è possibile sopravvivere un po' a tutto ma dove cazzo sto andando? dove sono intanto? ok credo che il mio obiettivo sia quello credo presumo non lo so ma io cosa ne so scuse oddio santo cotto è buio no troppo ah 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 ok proiettili per shotgun ammo yes yes ma se che è stato? che è? che è? le mie paure ma com'è? ma com'è? beh perfetto e saini non ho monetina? merda il bagno il bagno è sempre stato un po' il bagno pubblico è sempre stato un qualcosa che mi ha sempre spaventato quindi devo un attimo capire scegliete il vostro genere cosa vi piace di più? la classica o il jazz? dove vado? sedetevi il bagno destra o sinistra? io sono loro si si la legione votate non c'è da votare ditemi che cazzo dove andare jazz e qual'è il jazz? a fighe ok in mezzo ottima idea non posso farlo perchè in mezzo non vi è in mezzo non esiste votate 1 per donna 2 per donna donna bom volete proprio farla incazzare no ragazzi minchia no ma siamo deficienti pessima pessima idea rid cosa? chi è? ok ho vinto ho vinto ok 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 a qualche parte c'è qualcuno che ci fa una guata page 2 life was too harsh and the bridge was close when by they sank in water gaping from the sky they sank in water che cazzo vuol dire? perchè? oh va che carino c'è un ratto serigrafato sul pavimento andiamo per prenderci uno di qui le giadri spaventi I don't know what to write I'm not sure if I'm good or bad I don't know if it makes me happy or sad I think we are going to have a child ah così buon perfetto ma queste rime del cazzo sto per prendermi uno spavento sto per prendermi uno spavento stiamo per avere un jumpscare io ovviamente non avrò paura ormai forgiato dal fuoco di miglia battaglia mi è venuto un brivido lungo la schiena mi sono spaventato con la mia stessa voce attenzione il bagno degli uomini procedo ecco come potete vedere già c'è una differenza direi un rischio calcolato la possibilità di entrare e non uscire più da questi posti manca il cesso madonna santa beh ha senso d'altronde che ci serve io piscio sui muri qua c'è l'evoluzione vedete adesso è proprio come un gentleman pian piano si evolve adesso c'è una jacuzzi la cartigenica stavolta abbiamo la cartigenica prima non c'era vedete c'è del sangue vedo del sangue ci siamo ci siamo locked un cazzo adesso tu ti apri desi fuori ti... che cazzo fischi no 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 rar... rar... rurge rammo? per questa? non lo so io non lo so tira fuori il fucile a pompa no il fucile a pompa il fucile a pompa il fucile a pompa il fucile a pompa è occupato figa ragazzi questo mi prende alle spalle non ci riesco va da culo lo sapevo mmmh No! No! Abbiamo trovato un coltello? Bello! Per il burro? Per sfilettare? Ma perché i prossimi nemici si ammazzano così? Sicuro che un fucile a pompa non serva? Non ce la faccio! Devo prendere una pausa davvero! Bonnie! Broken? Ma è possibile che il coltello mi serva per aprire serature? Usa il pompa a fucile altrimenti? Il pompa a fucile? Eh! Come altro si potrebbe usare una pompa? E qui le risposte furono molteplici! Ma io che cazzo sono venuto a fare? Cioè allora quella porta lì non si apre! È lì che dobbiamo andare immagino di sì! Quelli sono i bagni! Ma che cazzo ne so! Non ce la faccio! Infiliati! Ehi! Quanti colpi sto sprecando? Non va giù! Che spavento era la luce! Pensavo fosse una faccia di qualcuno dietro la grata che mi fissava! Vaffanculo che ansia! Mori per favore! Tutti... Eh però! 57 colpi stiamo sprecando! Cioè l'ho ucciso prima più facilmente con la pistola! Pessima idea! Pessima, pessima idea! Ma il martello, il cazzo era troppo lontano! Io col... Col... Colpifero che mi avvicino a quell'affare! Sto vincendo! Dov'è? Dov'è che ti sento brutto, egoista, bastardo? Non ci riesco! Non ci riesco a stare calmo in questo gioco! È l'ansia che ti mette! Allora, hai fatto bene questo horror! Perché non è tanto il jumpscare! È l'ansia che ti mette! Tu t'aspetti qualcosa e quel qualcosa puntualmente non arriva! Dovrei abituarmici! Come la vita! Ho avuto paura! Ho la sensazione che prima o poi qualcuno ci correrà dietro! Esatto! Ma io più che altro devo capire che cazzo ci devo fare col coltello adesso! Il mio personaggio sta tremando, come potete vedere! Devi tornare indietro e risolvere l'enigma delle teste! Eh, mi sa! Gross! E penso sono io! Disgusting! Bene! Molto bene! Allora, l'enigma delle teste era, mi sa, di là! Non mi ricordo un cazzo! Qui cosa c'era? Di salvataggio? No! Dove cazzo siamo finiti? Ah sì, no! Qua c'erano le teste! Ok! Questa porta, immagino, si è bloccata! Esatto! Allora, abbiamo le teste! Come la facciamo? Questa è bloccata su! Perché... Ma, com'è? Adesso è... Adesso è a posto? Life was too harsh! This job must... Wasn't fair! They laid in the assembling! With a sideways stair! Ah, aspetta, allora, aspetta, abbiamo tre pagine! Ah, ogni pagina è per ogni testa! Ok! Un genio! Eh, non mi ricordo più, però! La prima dove... Che cazzo dice... Allora, aspetta, perché dovrebbe avercela qua nell'inventario! Quanti item ci sono in sto gioco? No! Ripeto, no! Eh, ma non mi fa vedere le pagine che ho trovato! Io come cazzo faccio a ricordarmelo? Immaginati che alla fine trovi il cane e poi diventa un demone! Perfetto! Ok, queste possono scendere giù anche... Tutti i punti... Questo è Art Attack! Questo è Art Attack! Questo è Art Attack! Sarebbe bellissimo in messicano! Giù sinistra su? Come fate a saperlo? Chi siete voi? Bom! A scalare? Siete dei bugiardi! Bugiardi! Come... La terza diceva sideways! Eh, ma qual è la terza? Potrebbe essere questa? Come potrebbe essere quella, capito? Mettiamo caso che è questa? Al contrario? Va bene! Quindi questa su... Questa a destra... Questa a destra... Questa giù... Bene! Bugiardi! Com'è? Ragazzi, da sinistra a destra! Non siamo da Vinci qui! Ditemi da sinistra a destra la combinazione, se già la sapete e vi ricordate! Uno diceva l'altro... Uno al cielo, l'altro al pavimento! E vabbè, uno al cielo c'è, l'altro al pavimento c'è! Ma questo? Perché non riesco più a trovare le pagine! Non so dove cazzo trovarle! Se no le leggiamo! Però non so dove cazzo sono! Perché nel diario non me le fa vedere! Nel diario mi fa vedere le impostazioni di gioco, vedete? Reload! Map! Change weapon! Con Q cos'è che faccio? Mouse wheel Q attack! Ah! Posso attaccare? Posso cambiare arma con Q! Che culo! Q di culo! La seconda da sinistra... La seconda da sinistra giù stava annegando! La seconda da sinistra è quella al centro! Che cazzo è la seconda da sinistra? Sono tre! Ragazzi! Dai! Giù su a sinistra! Mica vi complicate la vita come i pro gamer su Zelda! Giù su a sinistra! Ok! Giù! Su! Cazzo vai su! No 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 no! Fucile a pompa! Fucile a pompa! Fucile a pompa! Ma siamo cretini? Ma io col cazzo che proseguo... No 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 no! No! Oh! Il cane! Dog! Oh my god! No! È un bivio! No! Dov'è? No! Devo aspettare che si ricarica per fischiare! Fate voi! Ci stiamo cagando! Vedo! Dove cazzo siamo finiti? Ma ho visto una faccia! Ok abbiamo un grimaldello! Un larger ammo pick up! I don't have a map of this area! Ma vaffanculo! Shhh! Sono alto! Sono altissimo! Broken! Ho trovato... Sai com'è? Ho appena trovato un modo per aprire ogni porta! Ovviamente la porta! Magicamente non riesco ad aprirla! Ora potrei farmi i cazzi miei? O esploro anche le mappe e le aree in cui... Non guardare nell'oscurità! Perché l'oscurità ti sta guardando! Ok! C'è una porta qui! Sembra che il cane sia verso di qua! Su c'è! Madonna che ansia! Ah! Ah! Ste porte automatiche maledette! Il catcalling ha sempre funzionato per i chiamare i cani! Un po' strano eh! Paradossale direi! Madonna! Se qualcosa mi corre in faccia giuro che spengo il gioco ragazzi! Bene! Sto sentendo suoni... Al di là... Della normale comprensione umana! Quella è merda? Merda di cane? Il ti prego... Fa che qualcosa ti venga in faccia! Simpatici! Simpatici! Nooo! Ancora sto cazzo di tubo! Io non... No ragazzi! No ragazzi no! No! Non ce la fa... Non ci riesco! Qualcosa mi passa davanti! Qualcosa mi passa davanti! ok 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 no 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 oh mio dio è un po' incrostato che è sto suono cosa vedono i miei occhi mamma mia mi sento un po' una sonda vincchia allora c'è di positivo che cioè o mi vien davanti o mi vien dietro nel senso al cinema notate che le croste si fanno sempre più grosse una gastroscopia comunque stiamo facendo eccolo perché la musica è cambiata ma sto cazzo di cane ma voi non avete idea cosa faccio quando lo ritrovo lo riempio di carezze caratteristici bivi non mi vedo ok spara le croste no non spreco il tuo proiettili che c'ho per sparare delle croste a meno che queste si muovano e allora sono anche un po costretto dai che forse c'è la fina sta cacata forse sono io la cacata ho ancora più ansia ad uscire sto bene qua sto bene nel mio buco spavento vaffanculo chi è zorbo night grazie mille bestiaccia per questo micro infisema che ho che mi hai ma che cacata ma non si può non si vede una minchia ho vinto sangue no 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 allora fermi questa è la bc degli horror mi raccomando tenete la lingua lontana dei denti non serrate la mascella se ci avete in mezzo qualcosa ma cos'è quella roba lì ma cos'è quella roba lì forse è meglio così forse è meglio così che schifo sai cosa mi ricorda il danone i cioccolati budini danetta lì quel cazzo che è uguale non ho più proiettili per il fucile a pompa non so se ve ne siete accorti bene il cane non abbaia più vabbè è anche vero che non ci sono molte vede uscite quelli sono vetri la sopra ottimo 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 cazzo perché non spara ma si ma si possono incepare le armi belli sti vetri sul soffitto così voglio di saltare ad occhi aperti un saltino proprio ad occhi aperti che cazzo è così smetto di vedere ma dal muri fermi mani in alto incredibile queste lamprede killer arca miseria se l'hai portata uno di queste lamprede si è portato via il cane dai su success peak broken no no e mo devo andare il coltello e come cazzo faccio e mo non ho una mappa e appunto ci vogliono dentro oh grazie a cielo no si no bisognerebbe ritornare indietro effettivamente tutto tutto quanto mi dice di 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 no c'è un salvataggio lì panchine sembrano comode vedete ikea salve così ci ho pensato effettivamente spariamo al salvataggio eh save e raise come save e raise che cazzo ho fatto no 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 ma ma mi ha cancellato salvataggio no scusa come broken all he talks about is how ugly I have become how ugly I am going to be he tell me he's leaving I feel so sick he hates me now and I have all this responsibility all because of this parasite inside me I didn't think this would happen I just did what I was told I wanted him to be happy with me e mo? mi ha tolto il salvataggio ma la prossima il prossimo save point me lo ridà ma non è giusto però ma che cazzo vuol dire? e mo? eeeh ma che è? ma che è? ma che è? aaaaaaaah aiuto una salsiccia con le gambe che schiii ma che cazzo è successo? e come faccio a batterlo? aaaaaah ma che cazzo è successo? e come faccio a batterlo? nooo da capo? da capo? da capo? ma da capo? ma no sta roba non c'era prima no questo non c'era prima il tuo senso di self worth è stato influenzato dal corpo e dal peso e dal peso e dal peso e dal peso ah quindi ci siamo siamo un po' ah ok ok siamo un po' in insomma immagino siamo troppo magri o siamo troppo non ho letto salvo ok ma che cazzo ho combinato? ma cosa è successo? ma cosa è successo? scusatemi spiegatemi o siamo troppo grossi e muscolosi si 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 queste sono le due cose questo contrario io lo posso non ho più fucile o pompa come faccio ad ammazzare sta bestia? che non c'è più? ma che cazzo sta succedendo a sto gioco? credo sia perché hai sparato al salvataggio? ah dite che quello è il motivo? ma è fighissimo però madonna santa stiamo forse per avere un jumpscare io ovviamente non avrò paura perché ho conoscenza ormai orca puttana mi sono spaventato per due postre di merda di quello che è il mondo orrorifico che ci circonda che c'è? sto indagando eh credo che davanti a noi ci si ci siamo sbarrati da un bivio da una scelta quindi dunque scegliete la faccia sciolta il teschio sciolto quello che è l'uomo brutto o la donna bella cosa volete? cosa volete? ditemi quale sarà la volta? sinistra? allora vi spiego un po' come può funzionare hai queste due scelte uno il bene l'altro il male e scusatemi al contrario uno il male l'altro il bene dici vabbè vado a sinistra perché qua mi spavento però poi non succede un cazzo potrebbe però esserci il secondo pensiero degli sviluppatori che qua ti sta letteralmente dicendo non ci andare perché muori tu ci vai perché pensi che qua non ci sia un cazzo perché dici è troppo ovvio e poi ci muori ma c'è poi una terza opzione spegnere il gioco faccia sciolta? vi odio come al solito il mio giudizio è sempre stato avventato fin dalla nascita ce l'abbiamo fatta credo che... oddio c'è un altro corridoio? provo a fischiare io ho 18 colpi 28 colpi giuro gli lancio direttamente la pistola mentre spara la pistola guarda vado con la pistola tesa non me ne frego un cazzo forse ho capito to san che cazzo succede? è come se i samurai jack e le superchicchi avessero fatto un'orgia e questo è il risultato la faccia è un po' meno sciolta stavolta che vuol dire? ok siamo andati nel posto giusto immagino però credo che questi siano dei degli indizi per farci capire la strada no? ancora sinistra? non c'è la musica? ma c'era la musica prima? no destra? destra? ormai sinistra? quella è Harley Quinn? questa è Lady Gaga nei panni di Harley Quinn attenzione sinistra? vado a sinistra eh? che idea del cazzo avete sbagliato tutto guarda veramente non riuscite proprio a concepire quello che di per sé è l'enigma più semplice più facile non è mai sempre la stessa strada deve essere ogni volta cambiata bisogna cambiare no sta per succedere sta per succedere madonna santa ok? ok? perchè mi danno delle demolizioni? non va bene non va bene capisci che non va bene? non va bene non va bene non va bene non va bene ho sbagliato tasto ho sbagliato tasto ok? ok ah ah ottimo ottimo ok sta prendendo forma sta prendendo forma una forma di una disadattata ottimo questa ormai completamente si è sfasciata direttamente guardate la chirurgia estetica la chirurgia plastica che cosa come vi riduce aspetta però ci penso io a posto toh com'è nuova sette colpi per sta minchiata eeeh continuo? penso si penso a sto punto di dover seguire lei però adesso lei sembra restaurata l'immagine non è che mo' c'è la becchiamo eh? sempre a sinistra? eh? ogni volta sembra che faccio un viaggio nell'iperspazio ho vinto a questo momento sto spaccando la barriera del suono ragazzi no non vado a destra perché non ci voglio andare a destra che cazzo è quella roba lì? dove cazzo? eeeh ma sto cazzo che dovrei mangiarmi una mela? in mezzo a la fogna sole linguista comunque beh che dire allora vediamo se posso fare qualcosina eeeh eeeh it un cazzo Distributori non funzionano Figa Non è che mi arriva la donna sciolta? No, che ansia Piuk, piuk Piuk now, piuk now Ma che ho combinato? Non dovevo mangiare la mela Sono fottuto C'è l'istinto, mi ha detto di non fare Ma pensavo dovessi Cos'è? Cos'è? Non è più Ho fatto una stronzata, vedi? Vedi? Ho fatto una stronzata Merda! No, ma qui giochiamo veramente con la salute delle persone Non va bene, assolutamente no Questo dovrebbe essere È dissacrante Dovrebbe essere Un'avvertenza alla salute Ancora la mela Guantanamela Ok, immagino io non debba Non la mangiamo, ok? Questa volta non vomitare Come non vomitare? No, se la mangio si chiude la porta Che mangiala? Ma come mangiala? Ma se la mangio si chiude la porta Ma se la mangio mi si chiude la porta Ma come puoi passare lo stesso? Non mi fida Luce rossa Luce rossa Lo slime di prima Ah, ah, ah Ma sono due Ok Ehi, la terchiria Ho studiato il sardo per anni Quindi adesso, come potete vedere Lo padroneggio Ok, immagino debba mangiarla Posso passare lo stesso? Ma che cazzo? Vabbè E uno come doveva capirla Sta roba? Boni Ok, luce verde Attenzione Due caricatori 41 colpi Damn boy Le sbarre fricolano Eh, capì, però Non le avevo viste prima Pensavo si vibrassero Perché si era chiuso il cancello È una metafora? No No Se vedo un cancello chiuso Penso che sia chiuso Che faccio? La mangio di nuovo? Io non so che cazzo La mangio ancora, mo? Ah, però aspetta Stavolta Snake snacks Stavolta non è acceso niente Luce verde Sempre per più cara Immagino Esatto, però Va ad enigmi Si vai Boh Vabbè, la faccia della mela Cazzo Un'anguria Credo di aver sbagliato qualcosa Luce verde Attenzione Di nuovo? Ma non ha senso Che cazzo è? Ah, vedi Ok Pensavo fosse un rotolo di banconote Comunque Lì per lì Ma devo mangiare anche i proiettili La prossima volta? Per bocca o per Come l'introduco nel mio corpo? Vi ci si sparò Adesso, scusami Mo? Come le supposte In vena, dunque Allora Ragazzi Se la mangia Tra l'altro però Aspetta Non c'è più la luce verde Quindi forse non Devo più vomitare O devo Non lo so Se scorreggi Spari Beh però C'è la luce spenta E infatti Quindi La mangio lo stesso? Cioè è strana sta roba Mangiala e vai avanti Se tornassi indietro Vai senza mangiarla E l'avrei fatto anch'io francamente Però mi dite di mangiarla E andare avanti Mangia le fischia Vomita mentre fischi Vabbè luce verde ragazzi Forse non dovrei correre Mannaggia il cazzo Ti prego no Si clemente Oh Managgia il cazzo Managgia il cazzo Maaggia il cazzo dovessero fermarmi per una perquisizione svuoti le tasche metti giù un fucile, una pistola, un coltello e un feto classico ormamentario da sabato sera ma io cosa ci devo fare? dovevo prenderlo? anch'io gli avrei sparato per evitare che soffrissi ulteriormente che roba era? è il nostro cane, è una razza asiatica particolarissima adesso con questi incroci nascono sempre nuove creature era arancione che cazzo sta succedendo? sembra di... stiamo cercando in qualche modo al-Qaeda cosa sta succedendo? perdonatemi non finisce più ma che è? scommetto che qua il wifi ce l'hanno ah guarda come quando ero bambino e guardavo la tv con un fucile a pompa in mano attaccato al monito mi piaceva sentire i peli delle braccia è il tubo catodico ragazzi è qualcosa che non si vede più qualcosa che non si vede più e invece si vede ancora asp... fermi broken mannaggia il cazzo mio allora abbiamo una porta con delle forme geometriche due quadrati e un rombo abbiamo delle catene diverse strade e sento una dannata musichetta allora immagino che questo non sia fermi tutti pezzo di merda ci sta guardando qualcuno perché si muove la catena? sono stato io no? it's locked non abbiamo esatto non abbiamo una mappa allora andiamo a sinistra va c'è una freccia sei ra ok qui c'è la stessa immagine che abbiamo visto sul monitor due figure che guardano la vastità del cazzo che me ne frega ve la ricordate quella quella battuta che imperversava sull'internet dopo quella ha fallito facebook vi siete mai chiesti perché pick up map pick up this place should be empty but these lights are on and I hear something crawling around merda no why I keep the power on why I can't fathom what this place even is I've tried to map it out but it doesn't make sense bene quindi che cazzo ho combinato non so più i tasti quindi abbiamo una mappa adesso esatto siamo lì c'è ci sono da seguire queste frecce che immagino ci portino locked very good questo è il salvataggio immagino esatto non sparargli per dio game saved seguiamo le frecce per adesso cosa potrà bene sono chiuse cosa potrà mai accadere mi chiedo io allora tutte e due sono chiuse di là quindi quell'area sopra è completamente bloccata sotto allora andiamo negli stanzoni sotto sta correndo ma è uno scemo sì abbiamo una guarda allora immagino che sia disegnata da così la la il dungeon a destra abbiamo la la salita e a sinistra abbiamo eh no sì forcibile molto possibile sì 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 ha senso quindi a destra c'è la salita andiamo a destra che cosa ci dovrebbe esserci a destra c'è tutta un'altra sorta di di sistema no stranamente non ho non mi fa così tanta ansia a sto posto non so perché ragazzi come non detto figa no no ah guarda so volare che cazzo fai no minchia ma sera ma sera ok sei qua calmi eh non tocchiamo le catene perché immagino che le catene avvisino qualcuno della nostra presenza ma che cazzo ma che cazzo no no è il nostro cane ma è è il nostro cane no non mi piace è un costrutto è un cane c'è il cavallo di troia ma c'è anche il cane di troia ma che è ma che schifo è ma che è c'è qualcosa dentro mi sta inquietando l'anima mi sta inquietando l'anima no 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 ma qui a me è la cosa che mi preoccupa è che passano attraverso le pareti che diavolo è quello ah ok no io vedo delle facce io vedo delle facce ah no sono sono lampade sono lampade sono lampade ok shh shh che che cazzo di suoni ambientali di merda dove mi trovo sono lì ok sinistra ma che cazzo c'è qua perché ci sono sti posti li devo nascondere non va bene non va bene che cazzo spegnilo mai più mai più che sta succedendo perché ci sono queste stanze qua dovremmo usarle dopo per scappare ve lo dico io non mi piace non mi piace buono bene buono bene ma ti costerà sangue va bene abbiamo forse trovato un power up vabbè comunque è una specie di gemello dove ci hanno carvato dentro ci hanno inciso dentro le figure di uno scharafaggino e abbiamo the main access key pick up abbiamo la porta per le miniere ma questa non è una miniere quindi immagino che questa porta queste chiave ci possano aprire una di quelle due aree qua in alto qua io ora però ora però io non voglio tornare indietro allora possiamo farcela se corro se corro come un dannato devo ritornare alla scala ma visto corre corre che cazzo sono qua qua via via ok il gioco bene o male ritorna sempre lì è sempre la stessa meccanica entra prendi l'oggetto che ti serve intanto ti caghi addosso poi all'improvviso succede qualcosa che ti fa cagare addosso poi devi ritornare alla porta di prima e magicamente sparisce tutto nemmeno entrati sei cagato addosso ora devo trovare devo capire dove cazzo devo andare qua davanti non ci siamo ancora andati e forse era meglio non andarci che cazzo unlocked olè non devo però no no metti l'emblema sulla porta ah è vero ecco cosa serviva tu guarda l'uscita quindi queste qua sono miniere non ci credo allora abbiamo uno degli emblemi quindi mettiamo il primo le chiavi aprono tutte le porte che abbiamo visto chiuse per adesso ah sentite c'è una roba intanto fucile a pompa che male non fa io andiamo ah ma il suono del vento tranquilli tranquilli è solo il suono del vento ah è l'altra porta è il passaggio per l'altra porta che immagino adesso sia esatto vedi eccezionale eccezionale qua si può andare ah a posto le abbiamo sbloccate tutte con una chiave sola torniamo dietro di là perché l'altra mi sembra più piccolina e più facile da fare dobbiamo prendere gli emblemi e levarci dal cazzo quindi adesso lo farò qua tra l'altro no non abbiamo più nastri da da giocare perché in realtà si giocano queste robe e si è il caratteristico suono del vento ah così per tutto il tempo ah no aspetta scusa no aspetta no no aspetta no aspetta no aspetta no aspetta appunto pare satana ha una forma Ed è quella di un cane Non mi interessa Dove cazzo si esce? Di qua No, 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 no Non me ne frega niente Non guardo cosa c'è dall'altra parte Non mi interessa Da dove si esce? Da qui? Oh, oh, che cazzo è stato? Oh, all'ultimo, eh Ok, ok, ok A posto, a posto, a posto Ho vinto, ho vinto Abbiamo preso l'emblema del Della bomba Ottimo Perfetto Un po' rappresenta la situazione L'escalation che stiamo vivendo Scarafaggio, bomba E l'altro qual è? Ok, devo andare di là Immagino, eh Ce la posso fare È il posto di prima? No, è un altro Ok La freccia che mi dice di andare indietro Però non mi piace No, ragazzi Corro perché Cioè, parliamone Io non ho intenzione Minchia Non ho intenzione Pare non finire Se mi vedo una faccia Che mi sbircia Davvero, guarda Quella è una lucina Quanto cazzo è profondo Avrei dovuto gettarci dentro Una monetina Prima Sono il mostro in fondo al pozzo Sono io Metal Gear Solid 3 Wow Ok Ci siamo Reparto intimi E congiunti Sto sprecando tutti i proiettili che ho Basta Per favore Basta Dove cazzo Siamo finiti Quindi Immagino che questo Non sia il suono del vento Qua sulla destra Dovremmo trovare Il nostro piccolo emblema Di qua, eh Non muore Ho sbagliato strada Calmi È fatto apposta Sì ma un vaffanculo così Goliardico È tra amici Dove cazzo devo andare? È questa? Non mi ricordo più quale stanza è Non è questa? È questa? È no Vedi che non è questa? Dove cazzo mi trovo? È questa Oh Però Adesso qualcosa mi sbircia da lì No Ottimo Sono Un pro Moon emblem pickup Nel mentre troviamo i chiodi Gli stessi chiodi che inchiodano questi ratti Gli stessi chiodi che inchiodano Cristo I don't I told everyone But no No one listening to me I can't trust anyone They are all They are all just serving the monsters No one is different It's just me now Why wouldn't they just listen? Queste sono le stesse cose Proprio lo stesso caratteristico messaggio da Da dittatore Questo è il motivo che c'è dietro una dittatura È questo messaggio Io me ne vado eh Sali! Sali le scale! Sali le scale! Cristo! No 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 Corri! 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 Ma pizzicato! No 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 Che cazzo di cane è? È bene addestrato Adesso ti sporo in faccia Cos'era? Ma che cazzo? L'avete visto? L'avete visto anche voi? Cos'era quella roba lì? Sto impazzendo? Che è sta roba adesso? Ma cosa sta succedendo? Chi se ne frega? Ah ho trovato le munizioni Ottimo Posso salvare? Grazie a sé Salva Ok Boom Andiamo alla porta Ma io ho visto una figura Ma io ho visto una figura Non so se sono pazzo io Avete visto anche voi La figura di un uomo in piedi? Sbucciato? The movement Sì? Ok Buono Grazie Perché io pensavo di Avere un'allergia agli occhi Andiamo Che c'è qua dietro? Netsumi testing Credo che qualcuno ci stia un po' prendendo per i fondelli Non innaffiano le piante Da un po' L'avete vista tutti? Ok Quindi siamo pazzi tutti Sì Ci stanno osservando ragazzi Dottor Brundle Che genitori stronzi Chiamarlo così Personal Archive 86 Feeling good about today Progress continues Almost at an alarming rate Given how Teoretical This all should be Teoretical Scusatemi Teoretical This all should be Today we had One of smaller Rodents Continue to move From Almost two hours After all of its blood Had been Mi raccomando Registrate Had been Drained And replaced With mixed pass 12 15 V Ok Dottor Brundle Personal Archive 86 Ma è la stessa roba Abbiamo di nuovo Sta stronzata Abbiamo qui Il salvataggio Ma ragazzi Lo continueremo la prossima volta Perché sono già le 23 Quindi Faccio giusto Giusto Do giusto una sbirciata Perché sono curioso di vedere Cosa troveremo Vediamo un po' Un po' Un po' Sempre la stessa roba Per carità Ormai non ho più paura Di niente Sono bugiardo Ho estremamente paura Non voglio continuare Quindi bestiacci La prossima volta Continueremo Appunto Cercheremo di capire Di indagare Scoprire che cazzo Sta succedendo In questo posto Cos'è questo Natsumi Natsumi testing Natsumo testing Perché evidentemente Qualcuno Apprezzo il nostro cane Lo scopo alla base E qualcuno E qualcun altro Quindi niente Bestiacci Adesso Sorry Stoppiamo Le 4 chiacchiere Classiche Caratteristiche Il gioco ritornerà poi Settimana prossima O questa settimana Devo vedere Non mi ricordo più La programmazione Vi ricordo Che il 12 giugno C'è la Switch Lo dico perché So che c'è gente Che adesso Scappa via Il 12 giugno Vi regaliamo la Switch Mi raccomando La Switch OLED Serigrafata di Zelda Quindi sarà tutta vostra Siateci il 12 giugno E domani proviamo Diablo Boh Detto ciò Io ho fatto il mio dovere Oh ragazzi Sto gioco è inquietante Iurshore Sì sì Io sono Sono la costa Io sono la costa Ma a tutti i sabati Sì è un modo per ringraziare i sabati Che ci sostengono Quindi No non a tutti i sabati Stiamo un nome Un nome Un singolo nome Uno di voi si porta a casa Una Switch Magari potessi farlo Ragazzi Ma d'altronde Non sono Walter White Non so se sapete Chi è Walter White Esatto Il 47esimo Presidente degli Stati Uniti Ok Domani c'è Alternative Watch Ho appena detto Che domani c'è Diablo Modalità Bocelli Delle volte così da non leggere Alcuni commenti Ma non i sabati prime Tutti i sab Cazzo c'entra i sabati prime Ma va Tutti i sab Anzi Vi invito Se dovete sabarvi Se volete darci un sostegno Eccetera Grazie Di farlo con prime Assolutamente Non spendete un soldo Per questo qua Per l'altro sì L'altro è più degno Allora Un po' di moseca di sfondo E poi facciamo le reaction E tutto quello che Mi avete chiesto Fatemi un attimo Calmare ragazzi Perché Non ce la faccio Non ce la faccio Non so come si metta Cosa Sua mattina la riporterai Sai che non so se c'è questa settimana Non mi ricordo Domani ho un'interrogazione Auguratemi buona fortuna Buona fortuna Buona fortuna Grazie Daxin Leggete Ecco Comando live Per sapere che cazzo Portiamo sta settimana Tisana Tisana così ti relassi Non serve un cazzo Una bugia Andiamo a mangiare Lo spoglio sermano Sì Yes Buona fortuna Buona fortuna Come fai a spedire la switch Con catapulta Catapulta Abbiamo una catapulta Sul petto Sul tetto del condominio Sul petto Sul tetto del condominio Mettiamo lì la switch E andiamo poi a Direzionarla Bene o male Ragazzi Cadrà nella vostra zona Qualche modo Per questo Continua di Vi arrivare a dritta in faccia Perché Con i piccioni anche No 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 Allora Il funzionamento è semplice Abbiamo la catapulta Che sta sul tetto del palazzo Saliamo su Carichiamo la switch Lanciamo A un certo punto La switch colpirà il piccione Che fionderà giù Questo piccione Cadrà direttamente In un negozio Che in sto Proprio Schifati di ciò Perché il piccione Si infila con il becco All'interno della switch I proprietari Gli addetti Ai lavori E coprenderanno il piccione E la switch ormai Rotta e distrutta Serigrafata di Zelda Attenzione Nel cestino dell'immondizia A quel punto Lì arriva Andrea Andrea è esperto Di vagabondaggio E sopravvivenza Ha sempre rovistato Nei bidoni della spazzatura Tra l'altro scherzando Scherzando C'è gente che lo fa Che va a cercare Adesso c'è gente Virale su TikTok Che fa questo Che cerca nella spazzatura Gli oggetti degli altri Ottimo internet Comunque Prenderà la switch Andrà a restaurarla Il restauro è molto semplice Tanto amore Sputo E un pezzo di scotch E poi a quel punto Il procedimento riparte Ma stavolta Stavolta Beh stavolta Non colpiremo un piccione Ma un'aquila Abbiamo tutto un piano Si andrà ad buttare giù Quindi una scala alimentare Una piramide Proprio alimentare Di ogni predatore volatile Finché non troveremo Il drago Il drago ci permetterà Di esprimere Tre desideri Uno di questi Sarà intanto Di guarire Andrea Voi beh Noi non sapete Cosa sto dicendo io In questo momento Ma intanto Chiediamo di guarire Andrea Poi il secondo desiderio Sarà quello di regalarvi Una switch OLED Serigrafata Direi che La spiegazione È stata La terzo desiderio Non me lo tengo Per i cazzi miei Se perdonate Perché insomma Sono cose private ragazzi Uno con i propri draghi Fa quel cazzo che vuole Vi ricordo di non dragare Comunque per sicurezza E niente A quel punto Vi arriverà una switch OLED Così Comparirà Da qualche parte In tasca Probabilmente Attenzione però Invito a star seduti Perché non si sa mai Dato che La switch è un po' come Link Comparirà Nei vostri pantaloni Nei vostri vestiti Potrebbe però Comparirvi nel culo Ecco Quindi Attenzione È un drago Sì sì Top delivery La migliore E questo fa tutto parte Del servizio Amazon Che ringraziamo Ovviamente Che ringraziamo Quindi è tascabile Sì il drago sì È da tre live Che te lo chiedo Guardi per favore Il trailer Di Amanda The Adventurer No Ho vinto Allora Prima vediamo Le Reaction Cosa mi avete chiesto Oh figa Se non sbaglio La prima reaction Me l'avete chiesta Su Quale gioco Quale gioco Quante reaction Moderatori Scusate Quante reaction Mi hanno chiesto Che io non Non so Due Tre Tre Qual è la prima Ditemelo voi ragazzi Perché veramente Non riesco Non riesco a vederle Cioè devo andare indietro Col dito a manetta E non Non la sto trovando Una live direction Sì no Tre ragazzi Tre Beh oddio una live direction Potremmo farla Però sarebbe anche un macello Generation zero Giusto Ecco Ecco grande Grande Il primo è generation zero Quindi andiamo a vedere Il trailer di generation Generation Zero Trailer Che questo giochino qua Uscì Perché c'ho il capsulo cattivo Uscì tempo fa Quattro anni fa Fate voi Su pc Se non sbaglio Non so se è arrivato Su console E Fu una merda Uno dei giochi più brutti Mai creati Perché in sostanza Era vuoto Però poi Andando avanti col tempo Questi svedesi Che l'hanno creato Hanno aggiunto Roba E adesso Sembra essere avvincente E' un gioco online Cooperativo Multiplayer Dove Le macchine Hanno I computer Che hanno gli svedesi Dell'IKEA Si sono Umanizzati Sono sbucate le zampe E hanno iniziato A dare la caccia Gli esseri umani Questo gioco è nato Dopo la sesta puntata Di Back mirror Quella del robottino Si può notare Si può notare Ma una live Di live Non la fate Una live In live Non si fa Mai Andrè Dovremmo dare Un'altra speranza A sto gioco Perché Secondo me L'ha migliorato Un voto Questo poi Vabbè Questo è un trailer Vecchio Intanto I macchinoni Questi Stimeca giganti Hanno Ognuno Le sue peculiarità Le sue difetti Sui pregi Come noi Ecco La soluzione Penso sia quella Di sparare I propri alleati Uccidere una macchina E prendere i pezzi Della macchina Per comporre Il proprio corpo Di marchi ingegni E trasformarsi A sua volta In una In una sorta Di 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 Che non sono quelli Che vanno a fare Protesta ambientale Ragazzi Non sono quelli Che imbrattano Le opere d'arti E pisciano nelle fontane No Questa generazione zero Invece è il Non lo so Sono loro Io lo dico Perché magari Qualcuno poi si può Carino Carino Quindi questo qua Sicuramente lo riportiamo Però volevo giusto Vedere al volo Su steam Quanto costa Anche se Dovrebbero già comprato Generation zero Forse Andrea L'aveva anche Forse l'avevamo restituito Perché appunto Veramente All'inizio Il gioco Era proprio Una merda 2019 Sì Non so se hanno messo Qualcosa di nuovo Però vedete Che pian piano Col tempo Valutazione Per lo più positiva La gente Pian piano Inizia ad apprezzarlo Perché hanno aggiunto Sempre più meccaniche Sempre più roba Quindi ci potrebbe Stare Ecco Sconsigliato Sconsigliato I pcisti Odiano Ma comprano Dei tesori E quindi In sostanza Via Fuori dai coglioni Questo l'abbiamo fatto Aspetta 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 Ah c'è un nuovo trailer Di Lies of P Dopo vediamo anche quello Il coglione Allora Cos'altro Ciao Dino Ti volevo chiedere Hai mai visto Il trailer video Di Unrecord Oppure del gioco Horror Di Depart Cosa ne pensi Allora Unrecord È quello Con Sì l'abbiamo visto Comunque il trailer Abbiamo fatto anche La reaction Vabbè intanto Lo metto di sfondo Ma che reaction Gameplay È quello lì Fatto In Unreal Engine Come vi dissi L'altra volta Rispondo per cortesia Ragazzi Perché in realtà Ne abbiamo già parlato Anche abbondantemente Questo gioco Per quanto sia Estremamente realistico E graficato Io penso che Dovessi giocarlo Vomiterei dopo circa Due minuti e mezzo Perché questa visuale Fatta a pov Sul petto Del pupazzo E questi movimenti Apposta Imprecisi Per dare quella sensazione Di sto per vomitare Io sto in questo preciso istante Mi sta già girando lo stomaco Questi movimenti Fatti Questi movimenti Fatti per dare del realismo Fanno cagare Cioè Non è È bello Ma non è pratico È bello Ma non è pratico Cioè Dai Dai Come fai Come fai a mirare Guarda 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 quando spara Che cazzo succede Allora O è tutto in automatico Quindi vuol dire Che devi Mirare nella zona Dove c'è l'obiettivo E in automatico Lo prendi Oppure Non No No Detto ciò Basta Non vado avanti Col discorso Perché Lo stesso vale Per l'altro titolo Che mi avete chiesto The part Che mi hai chiesto Mi hai chiesto Sia tu Ludo sia Sia chi Erk Sia Erk Mi avete chiesto Tutte e due The part Che è quello Horror Invece Sempre con lo stesso stile Quello abbastanza inquietante Però ragazzi Non so Non so Non so che dirvi Mette realismo Ma secondo me Troppo realismo Fatto così È bello Ma ingiocabile Quindi Non saprei dirvi Comunque Ho sempre Sognato Un gioco Con questo stile Qui Perché fate Conto che io Io Andrea E un nostro Carissimo amico Ci nutrivamo Di video Su youtube Delle guardie giurate Nei centri commerciali Che andavano a tiserare Tutte le persone Che cercavano Di aggredire La guardia stessa O erano Pericolosi Per se stessi E gli altri E quindi c'era Questo qua Che andava Ci nutrivamo Di questo C'era questo Poliziotto Che ha una telecamera Sul petto E quindi c'era Appunto La sua visuale Pov Con la pistola Che andava Insomma Passavamo così Gli interi pomeriggi Quindi abbiamo separato Pensa che bello Un videogioco fatto In questo modo Dove porti effettivamente Un po' di educazione In questi luoghi Ormai dissacrati Però vabbè Questa è un'altra storia Una nostra fantasia Ecco Un conto è vederlo Un conto è viverlo Perciò Perciò Ora Ripeto Sono bei giochi Ma li vedo un po' Difficili da giocare Li vedo un po' Difficili da giocare Poi non so voi Magari Magari Non ve ne frega un cazzo Della componente Gameplay Bisogna vedere Perché magari Lo provi Ed è fatto benissimo È super fluido A me Mi fa stare male Solo a guardarlo Poi Vedremo E là Life of P Concordo Boh Mi fa piacere Porterete mai Lost Alone E che cazzo è Cosa ne pensi Di Days Gone Già Già parlato Caraffa Veramente tante volte Perdonatemi Se continuo Perché mi chiedete Sempre meno male Gli stessi titoli Se poi rispondo Sempre alle stesse domande Non ne usciamo più Buonanotte Chi sta andando Bestiace Un piacere Un onore Come al solito Grazie per il vostro tempo Amanda The Adventure È carino come gioco Ti prego E va bene E va bene Amanda The Adventure Non gameplay Ma Trailer Che cazzo Sto guardando Però Ma scusami Ma scusami Ma è poppy playtime Sta roba Ma è fatto Degli sviluppatori Di poppy playtime E Dora L'esploratrice 18 più Con un tocco Di Netflix E un pizzico Di 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 Politically correct Della Disney Bizarre warning Mi ispira È carino Sembra figo Mi ricordo Un botto Poppy playtime Però Vediamo se c'è Su Vediamo se c'è Su Steve Mi ha fatto ridere La pupazza Che si piegava Amanda The Adventure 8,79 euro Vabbè ci sta C'è la demo È uscito nel 2020 No che acquisto Per me Torno indietro Che cazzo fai No 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 Mettono nella lista desideri L'ho comprato L'ho comprato L'ho comprato Quando Diablo 4 Domani 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 No non l'ho comprato Tranquilli Comunque sì Ce l'ho messo Ce l'ho messo Nella lista desideri About features Non male Bello Grazie al cielo Gabri likes Doing things Ci dice che il gioco È bello Quindi adesso io sono sicuro E sono più propenso All'utilizzo Anche Anderino Beh ma cosa serve Cosa serve una recensione così Cosa mi stai dando Cioè ma Metti mi piace il gioco Ma che cazzo serve Cosa cazzo serve Scrivere bello Dimmi cosa intendi per bello Allora non mi Cioè Io veramente Guarda Guarda questo Che è Che cazzo sei Cosa sei Perfetto Gioco ovviamente Ricevuto gratis Capito Prodotto ricevuto gratis Da Ryan King Perché non poteva spendere 8 euro No 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 Dove riceverlo gratis Ok Grazie Comunque perché Sembra carino Lo metto lì Nella lista desideri Non si sia mai Che d'altronde Unisciti ad Amanda E al suo amico Woolly In una serie di avventure In cui esplorano E imparano a conoscere Il nostro meraviglioso mondo Con diversi nuovi episodi Di gioco Risate E apprendimento Il divertimento Assicurato Ma ricorda Di fare tutto Quello che dice Amanda O potrebbe arrabbiarsi Ok Una minaccia Comunque Ci sta Mi piace Mi piace questo andazzo Dove Prendono Diciamo Lo stile creepy Cioè Che cazzo succede I ratti ballano Dove prendono Le robe Da bambini Le rigirano Le fanno horror Tipo immagini Teletub I sorrow Perché non lo fanno Io non lo so L'avevo consigliato Al maestro Per le live domenicali E se l'era presa Ha fatto bene Non so perché Ma ha fatto bene Ehm Ertran Grazie mille Buonasera Buonasera A lei Salve 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 Zelda When Arriva Zelda Arriva Zelda When Comunque Un nuovo titolo Il futuro Della Ma quando mai Ma che cazzo ne so Andrea Io non Ormai non Non seguo più Quello che succede Nel canale Sono esterno Al canale Avevo detto Che non era Il mio stile E' già arrabbiato In questo momento Che sta rispondendo E' già arrabbiato Io lo so Cosa si fa adesso Eh non lo so Per me Una denuncia Io la farei Non si sa mai Effettivamente Di solito Di domenica Zelda Ovvio ovvio Allora bestiace Dunque Cos'è che Cazzo mi sono dimenticato Che cazzo dobbiamo fare Abbiamo in mente una roba Alternate watch Quando uscirà su youtube Non ne ho idea Solitamente i video Escono tre giorni dopo La live Grazie Daxin Ah L'esame of p Bellissimo Live o l'ize Come cazzo è L'ize Of p Nuovo trailer Sette mesi fa Cinque mesi fa Sono dei bugiardi Non è uscito un nuovo trailer Tre mesi Due settimane fa No che è I tre Solslike più promettenti In arrivo Va bene No Non c'è Nessun gameplay Giuro che avevo visto Un gameplay nuovo Otto mesi fa Trenta minuti di gameplay Per il Solslike di Pinocchio Ma si La guardiamo Non guarderemo mai Tutti e trenta minuti Ovviamente Comunque ringraziamo Every Eye Per questa Perla Noi mi ricorda Quell'attore francese Che fa i film Con Wes Anderson Quello Quell'attore francese Avete presente Quell'attore che sembra un'attrice Il ragazzotto Quello coi baffi Senza baffi Quello coi capelli Ehm Come cazzo si chiama Ma che Sean Penn No Ma che Sean Penn Timothée 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 Calamette Lì Sì Lui Lui La calamita del Titino T Timothée Timothée Johnny D Johnny Depp Ma no No Ma no Mi sembra lui Vabbè Micchia Comunque Graficone Devo dire Ok Così ci si cura Ma cosa ha usato Per curarsi Quanto sono andato indietro Madonna Ho sbagliato tutto Tre cure Più sotto Un Boh Non lo so Le animazioni Non sono male Me lo ricordavo Peggio Dall'altro Tele Che si era visto Avevo un po' cacare Stargazer Activate Il falò Ok quindi Questi qua Sono i checkpoint Lock on Ah questo è proprio L'inizio del gioco Quindi tutorial Evasion Minchia ma i ceffoni Però Hai capito Timothy Come meno Come meno Le guardie Ah belle le animazioni Carino Forse un po' lenta Cioè Più che altro Ha in mano Una sciabola Neanche un fiorino La sta usando Manco fosse una mazza da baseball Cioè Ah che roba Un po' meno Sì c'è Ok ci si para Con l'eleganza Che può avere Un domatore di leoni Con le sue babbucce Da notte Corre per i vicoli Dell'Olanda Buono È rimasto folgorato Dai figa è lui Guarda che roba È uguale È identico A quel cazzo d'attore Dov'è? E non riesco a prenderlo Vabbè fanculo Vestito come un postino Armato di sciabola Cani di metallo Bella la meccanica della Minchia però Anche le animazioni Quando sparano Porca puttana Ma fate qualche gioco Figa differente Dio bono È Bloodborne Cristo È Bloodborne È letteralmente Bloodborne Non ci provano nemmeno Sono le stesse Cazzo di animazioni Guarda dio Cioè scusatemi però Che nervi Sta stronzata Proiettili Sono lentissimi Mi avevi fatto Un po' più veloci Ah sicuramente Sembra più promettente Di quell'altro titolo Che mi avete fatto vedere L'altro giorno Quello lì italiano Come si chiama Delle maschere Che mi sembra Una baccata Però vabbè Sembra più promettente Ma perché ricorda appunto Bloodborne Più che altro Ci si può parare Diversamente da Bloodborne Quindi sono felice Guarda Ah che roba Lining part Ok Abbiamo cambiato Il tessuto del nostro Tessuto Cos'è? Non lo so Andiamo un po' avanti ragazzi Perché sennò Ottimo Oh Questo è abbastanza inquietante Mi piace Guarda Non si stanna nemmeno Che cazzo è successo? Va bene Pezzi di roba Molto coatto Quando si cura Il giocatore Si è dimenticato Di girare la visuale Bene Abbiamo già dei problemi Di telecamera Perché vedo che anche qua Si ingloba un po' tutto Ma sti cazzi Attacco alle spalle Capito? Silenzioso Eh? Silenzioso Ed efficace Nessuno se ne potrebbe accorgere Gli ha disegnato Gli ha fatto la Z di Zorro Sulla schiena Il nostro Timothy all'opera Si è beccato Un candelabro in faccia Backstab Fa cagare Che cazzo di backstab Beh non è un backstab Hai sentito parlare Di pro galattico Nitrox di pro galattico È un gioco che noi abbiamo regalato E giocato per mesi È regalato tipo sette volte Un'opera indiscursa Arte videoludica Purtroppo Non è arrivato alla portata di tutti Troppo presto Solo ora Tutti lo possono giocare Ma tempo fa Tempo fa Di pro galattico È sotto i nostri riflettori Da una vita È un'opera Veramente un'opera d'arte In cooperativa Che consiglio moltissimo A chi di voi Ecco Ha degli amici Da fregare in sostanza Da lasciare Dilagnati E mangiati Degli insetti Vabbè Vediamo se succede Qualcos'altro In sto gioco Perché ripeto Io ho sti titoli qua Che servono Ad aspettare Il prossimo gioco From Software Non li sopporto più Francamente Questo però Devo dire che perlomeno È il più bellino È il più particolare Dal punto di vista Artistico Sicuramente questo qua Lo proviamo Non si capisce un cazzo Ah siamo tornati indietro Sale le scale Ma una boss fight? La fai vedere Una boss fight Sì è un po' vuoti Le ambientazioni Però ragazzi Va bene Last resort Allora qua Cosa abbiamo? Una pessima connessione Oh Pronto Ecco lui è figo Lui è figo Perché mi ricorda Bioshock tantissimo Mi ha dato una testata Cos'è successo? Attenzione Perché Timothy Quando viene colpito Fa lo stesso suono Che fa La frutta Quando ti cade Dalle mani Ma cambia arma Figa Gli togli due Il bacio bionico Lì Non è un Lo so Un mortaio Un qualcosa Hai capito Pinocchio Eeeh No ma io voglio vedere Una boss fight Ragazzi Vediamo se c'è una boss fight Ci sarà una cazzo Di boss fight Scusa Bello lui Fighissimo Poliziotto Ma che bello Che bello Anche il moveset Che c'ha E la madonna E cazzo E anche veloce Dal fedel Perché è ispirato Dal punto di vista Artistico Cioè Ci sta Solo quello Qui Il resto Allora qua Cambiato arma E pigiama Bene Che cazzo sto guardando Replace Oh ecco Queste sono le meccaniche Del braccio Falcon eye Ma cambia visivamente Che schifo Che schifo Figo però Ma ha fatto attacco D'aria agli altri O su quanto lui Ci è separato Da un'esplosione Con la spada Che cazzo Di armare In mano Niente È diventato OP Lies of P Con la O Davanti Ovviamente Dai boss fight Boss fight Eccola qui È questa la boss fight Che cazzo sto guardando Ma lo sta ammazzando Con un calippo Cos'è Un ghiacciolo Una lama Che fa ghiaccio O elettrico No è elettricità Che effetto brutto Ok Si è diventata Una partita Di tennis Spera Tennisti Quando Quando combattono Ok Gli attacchi Non sono male Col braccio Comunque Cioè Abbiamo una fusione Tra Bloodborne E Sekiro Tantissimo Però ci sta La madonna Vediamo com'è Scrubbed Watchmen Finca Sei inquietante Bello lui Bello Mi piace Non so Come faccia Pararsi D'attacchi Leggenda È una demo Quindi è possibile Che gli faccia Meno danno Apposta Per Non gli leva Un cazzo Ragazzi Sembra Essere tosto Il gioco Non gli leva Un cazzo Ma anche un nemico Dei problemi Di hitbox Allucinanti Si capisce Come cazzo Fa a scrivere Sti colpi Menilo Menilo In faccia Che bel cappello Che c'ha Anche dai bei baffi Voglio che vinca lui Se è incazzato E questa è la fine Che ha fatto Timothy Nel mondo Del cinema Devo dire Che non è male Me lo immaginavo Peggio Con questo piccolo Gameplay Devo dire Che ci sta Però Difetti sono Troppo Troppo spogli I nemici L'ambientazione In generale Troppo Un copio in colla Dei giochi From Troppo Veramente troppo Io da una certa Veramente Mi incazzo Però Non è male Qualcosina su Di suo Ce l'ha Magari Lo proviamo Vediamo se Effettivamente Ha un suo carattere O se è solo Un copio in colla E se è solo Un omaggio Spero di no Spero di no Vedremo Vedremo A voi piace Ragazzuoli Vi intriga O non ve ne frega Un H Spazi larghi Ma vuoti Sì Un loft Nemici fichi Ma per ora L'ambientazione È un po' piatta Trailer di Mortal Shell No ragazzi Adesso basta Adesso chiudiamo A breve Non guardiamo Altri trailer Reaction A We Happy Few Non sembra male Puoi provare A vedere Qualche gioco Di Chill as Heart No Adesso no Ragazzuoli Tra un minuto Chiudiamo Come faccio Cosa ne pensi Di Sky Children Of The Light E dagli stessi Cattoli di Journey Eh Santuzza Non mi ricordo Che cazzarola è L'hanno fatto vedere Al playstation La showcase Di playstation Vero Eh non me lo ricordo Ragazzi Perdonatemi Attenzione Bello Carino Ma troppo clone Non mi piace Minchia ma tanti di voi Stanno dicendo Che non vi piace Ok Reaction a Cookie Mama Non serve a reactare Quella è la vita Stanno progettando Di fare un altro doom Per chiudere la saga Ottimo Non è il mio genere La maggior Il 44.4% Di voi Dice che è carino Ma è troppo clone Eh Cioè Come non condividere Cioè nel senso Ragazzi è così Cioè non c'ho cazzo da fare Anche secondo me È così Vi bisogna vedere Se avrà carattere Abbastanza da distinguersi O se appunto È semplicemente Un enorme omaggio Io la vedo più come la seconda Francamente Questi giochi ripeto Mi danno quella sensazione Di sto aspettando Il gioco from software Nuovo O meglio Sto aspettando Bloodborne Non mi fanno uscire Un remake O un capitolo successivo Quindi me lo faccio da solo Io continuo a vederla Così questi giochi qua Perché il fatto è questo Io capisco L'omaggio Omaggiare quanto vuoi Ma questi sono giochi Clone Cioè sono Dei cazzo Di giochi clone Di Bloodborne Di Dark Souls Ed è troppo Nelle ambientazioni Cioè l'ambientazione Ancora ancora Personaggi ancora Ancora Ma le movenze Gli attacchi Le meccaniche Cioè cosa c'ho di nuovo Se tu mi cambi Semplicemente Cioè sembra una mod Di Bloodborne Capito? Quindi a me Sta cosa mi fa girare Le palle Perché non è che ci Tu hai anche Un buon team Di sviluppatori Saranno una quindicina Trentina di ragazzi Dietro Che stanno creando Di creativi Però fanno sempre La stessa roba Che sono fissati Con questi cazzo Di giochi From software A me sta roba A girare il cazzo Perché alla fine Qualcosa potranno inventare Cioè se sono in grado Di far questo Possono far mille giochi Magari con un loro stile Cioè il fatto è Ti piace la meccanica From software Vuoi fare il gioco Soulslike Quindi checkpoint Se muori devi ritornare A riprenderti I tuoi soldi Devi fare attenzione Al combattimento Ci può anche stare Ma mettimi una meccanica nuova Dov'è la meccanica nuova Qui? Non c'è Cioè hai unito Sekiro e Bloodborne Non lo so Che ne pensi di Spider-Verse 2 Non l'ho ancora visto Non vedo l'ora Quindi è quello il mio problema Creare roba nuova O aggiungere un qualcosina Cioè cazzo Qualcosa di nuovo Me lo potrai mettere Sì devi riprendere Qualche caratteristica Ma modificare Modificare Hanno aggiunto Pinocchio Ah quindi è questa La La Quella potrebbe essere Una meccanica nuova Allora non sono un game designer Quindi non saprei che cazzo dirti Dare tridimensionalità Al posto Quindi al gioco Quindi il fatto che tu possa salire Ci può anche stare Magari aggiungere Della meccanica scelta Quindi Dagli un po' di più di narrazione Al di là di parlare Con un NPC che fa E nel mentre tu Leggi quel cazzo che c'è scritto E indovina un po' Quel cazzo che c'è scritto Non lo capisci Perché ogni gioco Perché ogni gioco Deve essere fatto così Perché aumenta La lore No aumenta la rottura Di coglioni Ma vabbè E magari mettere Magari mettere Delle scelte multiple Alla narrazione Attenzione ci sono già Nei giochi from software Ma Integrate il gameplay In qualche modo Non saprei cosa dirvi Ripeto Non sono un game design Così Su due piedi Non so che cazzo inventarmi Inventarmi Però Qualcosa bisognerebbe Mettere in più Come meccanica di gioco Una meccanica di Teletrasporto in tempo reale Hai sto braccio meccanico Fallo usare in altro modo Non solo con l'arpione Con il colpo di fuoco Di ghiaccio Di elettrico Fai il teletrasporto In tempo reale C'è il nemico Che è dall'altra parte Della stanza Tutti i teletrasporti A fianco a lui Lo puoi fare tre volte Per stanza C'è una barra di caricamento E in quel modo Tutti i teletrasporti Un po' dove cazzo vuoi Si ferma il tempo Se lezioni dove teletrasportarti Te teletrasporti lì Per dire E già hai fatto una roba Un po' più diversa Hai aggiunto Un gadget in più al braccio Magari c'è Non lo so Però per dire Già una roba così Può completamente cambiare il gameplay Immaginatevi una boss fight Fatta così Dove magari sei costretto A teletrasportarti Su pezzi del corpo Della bestia Perché è enorme Per riuscire a colpire In punti strategici Che cazzo ne so Che cazzo ne so C'è qualcosa Inventati Figa Non che faccio lo stesso gioco Ma ci cambio il nome E cambio il pupazzo E vabbè Siamo buoni tutti Cioè Siamo buoni tutti Così Classico NPC di Skyrim Sì Certo che ce l'hanno la fantasia Se vogliono Poi vabbè Bisogna anche vedere Dal punto di vista Capacità Perché magari Loro non Vogliono fare Ma non riescono Perché hanno delle limitazioni Non conoscono perfettamente Il motore grafico Non sanno bene Cioè Per carità Ci sono mille problemi Che possono cicciare fuori Mentre si Avanza anche solo l'ipotesi Di creare un videogioco Però Voglio dire Sì beh Ovviamente Infatti È anche il loro lavoro Cercare di riuscire a creare Quello che c'hanno in testa Però di base Io vedo Questa mancanza di Come dicevamo Ne abbiamo parlato anche su Telegram Tra l'altro Vi ricordo voi Sab che avete Telegram C'è questa mancanza di fare Cioè Non c'è voglia di fare altro Fai il minimo sindacale La gente sbava Dietro a quelle tre minchiate Sono sempre quelle tre minchiate lì Che si ripetono Ma in modi differenti E basta È un periodo un po' così Sono tutti sequel Sono tutti Cioè Cazzo Ma mettimi qualcosa di nuovo Cioè Ma potrà inventarti qualcosa di nuovo Con la tecnologia che abbiamo Possibile che è l'unica cosa nuova L'unica prospettiva Che abbiamo di Di diverso Nel mondo del gaming Parlo Solo del mondo del gaming È l'intelligenza artificiale La possibilità di chiedere All'NPC Quel cazzo che vuoi Sperando in domande Che abbiano un senso Bello eh Però c'è Bestiace Dai Ci vediamo domani alle 21.30 Fatti buoni Fatti bravi Domani c'è Diablo Ci sarà anche il maestro Ovviamente Io vi ringrazio Per aver Trascorso con noi Questa magnifica serata Alla ricerca del nostro cane Grandi spaventi Grandi tormenti Domani Diablo E poi Altro Durante la settimana Tra l'altro Se non sbaglio No Non mi ricordo più Che cazzo c'è da fare Stasettimana Ah si Giovedì c'è Project Zomboid Giochiamo a Project Zomboid Ho sputato In cooperativa col maestro La stavate aspettando Sta cazzo di serata Mi sono deciso a farla Mi sono deciso a farlo Dai Quindi siateci anche giovedì Perché ci sarà Ne vedremo delle belle E poi ripeto 12 vi ringraziamo la Switch Quindi preparatevi Perché sta per succedere Sta per accadere Io vi voglio bene ragazzi Grazie per tutto Veramente di cuore Grazie per ogni sera Che mi fate compagnia Grazie per me è un onore E un piacere E anche un dovere Cazzo Presentarmi qua ogni sera A parte venerdì Che non ci sono stato Ma questi sono dettagli Sono dettagli Buonanotte bestiaccia A domani Ciao 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 Ciao